Tornano a diminuire, seppur di poco, i nuovi casi Covid in Lombardia. Stando all'ultimo report della Fondazione Gimbe, nella settimana tra il 30 marzo e il 5 aprile, i contagi sono diminuiti dell'1,3% rispetto alla settimana precedente, quando comunque si erano già iniziati a vedere i segni di un rallentamento del virus. In Lombardia la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica è aumentata, passando dal 9,7% della scorsa settimana all'11,1% del periodo 30 marzo-5 aprile. I posti letto Covid occupati in terapia intensiva sono invece leggermente scesi, passando dal 2,5% al 2,2%. Intanto in materia di vaccini, da EMA e dall'European Center for Disease Prevention and Control, hanno stabilito che è ancora troppo presto per prendere in considerazione l'utilizzo di una quarta dose dei vaccini anti-Covid a mRNA nella popolazione in generale. Lo riferisce la stessa EMA in un comunicato ufficiale, spiegando tuttavia come entrambe le agenzie abbiano ritenuto opportuno che una quarta dose o secondo booster possa essere somministrata agli adulti di età pari o superiori agli 80 anni.